come te la cavi con la lingua dimmi qualcosa in francese mostrami il bicipite si sta alzando la temperatura e non solo mi sembra togliti qualcosa mostrami il tuo profilo migliore sembra proprio questo fatti vedere meglio allontanati un po ma non troppo ops mi sembra che ti sia accaduto qualcosa te la prendo io ehi se fai così non riesco a trattenermi